ciao a tutti da katia bentornati nel mio canale e benvenuti ai nuovi iscritti nel mio canale grazie sempre che mi seguite e che mi incoraggiate ancora di più a fare tutorial avevo smesso per vari motivi a fare tutorial e quindi adesso le persone che me che mi seguono mi hanno convinta a riprendere insomma a fare ancora dei tutorial e quindi ringrazio tutti allora oggi sono qui con un nuovo progetto è un progetto è una maglia una maglia lavorata con questo punto a onde allora questa è una taglia 42 44 quindi una taglia piccola e l'ho realizzata con 400 grammi di filato ora questo è un filato che io ho comprato qualche anno fa non mi ricordo se è stato l'anno scorso due anni fa l'ho preso in un negozio vicino casa ecco e quindi era una matassa e non avevo etichetta però mi è piaciuto tanto e l'ho voluta provare e quindi oggi ho realizzato questa questa maglia con 400 grammi di filato è molto simile al filato per chi lo conosce il filato alise quindi è molto simile all'alise sal quindi per chi è in casa questo tipo di filato alise sal lo può tranquillamente fare insomma lo può tranquillamente realizzare allora vi dico come si inizia la lavorazione io ho iniziato dal basso ho preso la circonferenza dei fianchi e del seno sono partita dal basso dai fianchi quindi si prende la misura dei fianchi e del seno e si parte dalla misura maggiore quindi se il seno misura 100 e i fianchi misurano 90 allora si parte se si avviano le catenelle partendo dalla misura del seno ok per avere la lavorazione morbida altrimenti se partite con la misura dei fianchi che sono più stretti poi la maglia insomma non vi va bene non vi entra bene ok allora dicevo sono partita dal basso avviato 171 catenelle quindi ho lavorato su un multiplo di 19 catenelle chiuse le catenelle a cerchio ho lavorato sempre a giro fino ad arrivare all'altezza degli scalfi sotto le ascelle dopodiché poi a parte ho lavorato le maniche ho lavorato con l'uncinetto del 4 e mezzo la mia maglia quindi anche le catenelle ho avviato le catenelle con l'uncinetto del 4 e mezzo e per le mani che ho avviato 57 catenelle quindi tre motivi per 16 motivi sono andato avanti sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo dopodiché ho cambiato uncinetto sono passate con l'uncinetto del numero 5 per allargare un pochino qui diciamo la parte del braccio poi ho unito le maniche le unite qui sotto le ascelle e poi ho lavorato tutto a giro fino ad arrivare all'altezza delle spalle dopodiché ho fatto delle diminuzioni con delle maglie basse e ho lasciato questa apertura ora mi dico è abbastanza larga quindi è 28 centimetri allora se se lo allargo così e 30 centimetri ok è lunga 64 centimetri e come larghezza è 42 centimetri facciamo 41 centimetri ok per una taglia 42 44 per una 44 va abbastanza comoda è una lavorazione molto semplice è una lavorazione che ho già fatto ho già fatto un tutorial ho fatto una canotta con questo con questo punto solo che questa volta ho voluto fare una maglia e quindi aggiungere le maniche ok spero che il progetto vi piaccia che di vostro gradimento se così fatemelo sapere nei commenti anche se non vi piace fatemelo sapere lo stesso che diciamo le critiche costruttive aiutano sempre a migliorare scusate ma ho la tosse bene allora detto questo vi lascio il tutorial è un bacione a tutti ciao allora io adesso vi faccio un campione vi faccio vedere anche le maniche allora io adesso vi faccio un campione con tre motivi infatti le mie maniche per la circonferenza del mio braccio io ho fatto tre motivi ho montato 57 catenelle perché lavoriamo su un multiplo di 19 catenelle ok quindi ho fatto 19 19 19 e ho chiuso a cerchio quindi ho fatto le mie maniche lavorando con l'uncinetto scusate qui ho messo il mio marcaponti allora ho iniziato con 57 catenelle e ho lavorato per 16 giri 16 motivi con l'uncinetto del 4 e mezzo poi per allargare un pochino il lavoro perché questo arriva praticamente sotto quasi sotto l'ascella quindi ho allargato un pochino e ho lavorato con l'uncinetto del numero 5 ok bene adesso per farvi vedere il punto vi faccio un campione questo è già è un punto che ho già fatto in un mio tutorial che ho fatto una canotta però questa volta facciamo una maglia infatti io ho lavorato anche la parte del busto eccolo a chi piace può continuare e fare un vestito io purtroppo non ho abbastanza affilato e quindi mi fermo a fare una maglia avevo anche diciamo avevo messo anche un altro filato ordinato anche il nero però sinceramente non mi piaceva e ho scuscito e quindi mi fermo a fare una maglia ok ora prendo il filo e vi faccio vedere come come fare il punto allora per fare il mio campione io inizio con 57 catenelle quindi sono per motivi e inizio il mio campione 57 catenelle come ho lavorato le mie maniche quindi ho fatto 3 motivi ora fate le catenelle chiudo a cerchio girando le catenelle tutte così dirette vado nella prima catenella chiudo con una maglia bassissima adesso faccio 1 2 3 4 quindi lavoriamo sempre a maglia alto con la maglia alto doppia rientro nella stessa maglia al lavoro una maglia alto doppia filo sull'uncinetto due volte rientro e lavora ancora una maglia alto doppia in tutto dobbiamo fare cinque maglia alti doppie quindi sono 4 5 filo sull'uncinetto due volte adesso vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alto doppia due volte più lo sull'uncinetto salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia filo sull'uncinetto salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia in tutto dobbiamo lavorare 9 maglie alte doppie quindi abbiamo fatto la prima queste 1 2 3 4 5 magliate doppie poi nella maglia seguente una maglia alta doppia poi ancora ho saltato una maglia maglia seguente maglia alta doppia quindi vado avanti fino ad arrivare a 9 ma gli altri doppi e quindi vado avanti fino ad arrivare a 9 ma gli altri doppi e sono 4 5 6 6 6 6 7 8 9 per sicurezza conto ancora quindi ho fatto 1 2 3 4 5 magliate doppie lavorate nella stessa maglia e poi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 magliate doppie quindi lavorate le 9 maglie alte doppie adesso vado nella maglia seguente e lavoro 5 maglie alte doppie lavorate tutte nella stessa maglia 1 2 3 3 4 4 5 5 ecco 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 adesso filo su un ucinetto due volte vado nella maglia seguente e lavora ancora 5 maglie alte doppie 3 1 1 2 2 3 3 4 e 5 quindi stiamo ricominciando da qui quindi abbiamo fatto un motivo 5 maglie alte doppie 9 maglie alte doppie 9 maglie alte doppie 5 maglie alte doppie quindi questo è un motivo adesso sto iniziando di nuovo 5 maglie alte doppie 2 maglie seguente 3 3 nella maglia seguente lavoro una maglia alta doppia adesso lavora ancora 8 maglie alte doppie saltando però una maglia di base quindi salto una maglia maia seguente maglia alta doppia 1 salto la maglia 2 salto una maglia 3 salto la maglia 4 salto una maglia 5 salto una maglia maglia seguente 6 vado avanti 7 vado avanti 8 vado avanti 8 vediamo quindi qui ho lavorato le mie 5 maglie alte doppie quindi sono 1 2 3 4 5 e poi 1 2 3 4 2 3 4 e 5 si poi ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adesso nella maglia seguente lavoro 5 maglie alte doppie e ho finito il secondo motivo con le 5 maglie alte doppie 3 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 9 8 9 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11 10 11 11 4 5 poi adesso vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta doppia salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia quindi vado avanti adesso lavoro 9 maglie alte doppie e poi arriviamo qui e chiudiamo il giro insieme eccomi sono arrivato a cosa alla fine del giro devo completare il mio motivo quindi ho lavorato le mie 9 maglie alte doppie adesso nell'ultima catenella proprio qui nell'ultima lavoro le cinque maglie alte doppie 1 2 3 4 5 e chiude adesso nella quarta catenella qui dove abbiamo iniziato con le catenelle vado a chiudere proprio qui in questa maniera ora faccio una catenella e giro il mio lavoro sul rovescio qui dove ho fatto la maglia bassissima vado sotto la maglia alta prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima faccio due catenelle vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa maglia seguente maglia bassa lavoro tutte le maglie a maglia bassa così lavorando la maglia in rilievo in questa maniera in questa maniera mi faccio vedere su dritto viene così poi il poto è così il rilievo che fa forma queste io le chiamo onde queste onde quindi vado avanti per tutto il giro quindi lavoriamo tutte le maglie a maglia bassa il rilievo sul rovescio del lavoro così ok ci ritroviamo alla fine del giro ecco arrivato alla fine del giro quindi ho lavorato la mia ultima maglia bassa vado a chiudere qui dove abbiamo iniziato con le due catenelle e chiudo con una maglia bassissima giro il lavoro sul diritto ecco mi trovo proprio sulla prima maglia alta doppia quindi faccio 1 2 3 4 e ricomincio il mio giro il giro delle maglie alte doppie quindi qui dove abbiamo la prima maglia alta doppia rientro e lavoro ancora 4 ma gli altri doppi e quindi le 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia e poi lavora ancora altre 4 maglie 2 4 4 5 ora due volte fino sull'uncinetto vado nella maglia seguente qui ho lavorato maglia seguente lavoro una maglia alta doppia salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia quindi dobbiamo lavorare in tutto 9 maglie alte doppie salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia ok ok quindi sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adesso vado proprio qui sull'ultima maglia alta doppia e lavoro 5 maglie alte doppie qui 1 2 2 3 4 5 3 4 5 5 poi vado nella maglia seguente e lavoro ancora 5 maglia alte doppie quindi questo è il primo motivo 5 maglia alta doppia 9 maglia alta doppia 9 maglia alta doppia e quindi questo è il primo motivo adesso ripeto faccio il secondo quindi faccio 5 maglia alte doppia nella maglia seguente 2 2 3 4 5 5 5 ora vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta doppia questa è la prima delle nove adesso dobbiamo fare ancora 8 maglia alte doppie però saltando una maglia di base che ho fatto la prima sotto una maglia maglia e quindi faccio la seguente maglia alta doppia qui sono 2 salto una maglia 3 salto una maglia 4 salto una maglia 5 salto una maglia 6 salto una maglia 6 salto una maglia 7 salto una maglia 8 salto una maglia 9 adesso vado proprio qui nell'ultima qui abbiamo le 5 maglia alte doppie quindi vado sulla quinta e lavoro 5 maglia alte doppie 1 1 2 3 3 4 5 adesso vado nella maglia seguente e lavoro le 5 maglia alte doppie 1 2 3 4 4 5 4 5 5 maglia seguente una maglia alta doppia la prima delle nove maglie quindi adesso ho fatto la prima salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia 2 volte più sull'uncinetto salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia ok fino ad arrivare qui dove abbiamo l'ultima la penultima maglia dobbiamo lavorare dobbiamo arrivare qui con la nona maglia alta doppia ok quindi adesso faccio le mie maglie ci ritroviamo qui eccomi allora ho lavorato le mie 9 maglie alte doppie adesso vado qui nell'ultima maglia e lavoro le 9 scusate le 5 maglie alte doppie quindi 1 2 2 3 4 4 5 e vado a chiudere qui dove abbiamo iniziato con le 4 catenelle quindi chiudo con una maglia bassissima adesso faccio 1 2 catenelle e giro il mio lavoro quindi qui dove ho lavorato ho chiuso con una maglia bassissima lavoro una maglia bassa maglia bassa maglia seguente maglia bassa lavoriamo tutto il giro a maglia bassa il rilievo davanti eccomi arrivato alla fine del giro ha lavorato tutti i miei punti tutte le mie maglia maglia basse rilievo davanti adesso chiudo con una maglia bassissima faccio una maglia bassissima nella maglia seguente in modo che quando giro il lavoro mi trovo proprio qui sulla prima maglia alta doppia del secondo gruppo delle 5 maglie quindi adesso ricomincio la lavorazione faccio 1 2 3 4 catenelle rientro nella stessa maglia e lavoro e 5 maglie alte top e quindi le 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia quindi ripeto sempre questi due giri ecco adesso vado nella maglia seguente al lavoro una maglia alta doppia la prima delle 9 quindi adesso lavora ancora 8 maglie alte doppie saltando una maglia di base qui adesso lavorato la maglia alta quindi qui salto la maglia maglia seguente maglia alta doppia salto la maglia maglia seguente maglia alta doppia ecco fino ad arrivare qui qui abbiamo le 5 maglie alte doppie quindi arrivo fino alla penultima maglia alta doppia e poi nell'ultima sulla quinta maglia alta lavoro le 5 maglie alte doppia insomma dobbiamo ripetere sempre questi due giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi sotto le ascelle ok io vi faccio rivedere ecco io ho lavorato per 47 47 no scusate allora lo metto giusto così ed è 50 cm e 50 cm è larga 40 ok questa comunque è una taglia piccola allora quando avviate le vostre catenelle aggiungete un motivo in più perché il punto stringe tende a stringere ok quindi se volete fare una taglia una una taglia 46 potete iniziare con 190 catenelle se volete una taglia ancora più grande aggiungete alle 190 aggiungete ancora 19 catenelle ok anche 38 anche due motivi in più allora lavorando in questa maniera dobbiamo fare la parte del busto quindi lavoriamo la parte del busto e lavoriamo anche le maniche quindi dobbiamo preparare tre pezzi le maniche prendete la circonferenza del vostro braccio iniziate le catenelle con l'uncinetto io ho iniziato le catenelle con l'uncinetto del 4 e mezzo ok anche se questo è un filato abbastanza sottile scusate io l'ho lavorato con l'uncinetto del 4 e mezzo del 5 in modo da ottenere un'allavorazione morbida questo è un filato che avevo in casa che ho comprato l'anno scorso o due anni fa sinceramente non mi ricordo non ha etichetta e l'ho comprato in un negozio qui dove abito io quindi non ha etichetta voi comunque se volete un filato simile a questo potete usare l'alise sale oppure insomma i filati alise ok quindi ora preparatevi i vostri pezzi la parte del busto le due maniche e poi assembliamo insieme i pezzi rieccomi allora adesso dobbiamo assemblare i nostri pezzi preparati il pezzo diciamo del corpo e le due maniche adesso possiamo iniziare allora io ho iniziato con 171 catenelle quindi mi trovo 9 motivi vi ricordo che lavoriamo su un multiplo di 19 catenelle quindi ho 9 motivi ho messo i miei motivi uno sull'altro in questa maniera però ho un motivo in più quindi quando abbiamo i motivi di fare quel motivo di fare lo mettiamo sul davanti quindi adesso io mi trovo quattro motivi dietro la parte della schiena e cinque motivi sul davanti quindi quando abbiamo un motivo in più lo mettiamo sul davanti per dare un pochino di morbidezza al seno ok ok adesso prendiamo la manica e prendiamo la manica nella parte larga la parte più larga che io ho lavorato con l'uncinetto numero 5 quindi adesso vado qui qui abbiamo cinque maglie alte doppie e cinque maglie alte doppie poi abbiamo le nuove maglie alte doppie e poi ancora le cinque maglie alte doppie quindi faccio in questa maniera metto la manica qui la parte del rovescio sul dritto così quindi faccio le qui le cinque maglie alte doppie quindi abbiamo 10 quindi vado qui in questa maniera 5 e 5 e lascio queste fuori così ok 5 da questa parte e 5 dalla parte della manica questa parte qui invece va uscita ecco questa è la parte dell'ascella e quindi questa parte così va uscita adesso io per farvi vedere fermo il lavoro con degli spielli qui potete cuscire a collago oppure direttamente con l'uncinetto con delle maglie basse come preferite qua abbiamo le cinque maglie alte doppie e vado qui nelle prime qua uno due tre quattro e cinque e lascio il secondo gruppo delle cinque maglie alte questa parte poi va uscita ecco quindi poi adesso noi quando iniziamo la lavorazione lavoriamo la parte del corpo e lavoriamo poi anche intorno alla manica e poi la parte da questa parte quindi lavoriamo il davanti il dietro e le maniche a giro ok quindi adesso io vado a fermare questa manica faccio la stessa cosa anche dall'altra parte dall'altra parte faccio vedere metto anche l'altra manica e adesso lo metto così per farvi vedere poi lo metto giusto 3 4 e 5 3 4 e 5 così e lascio le cinque fuori e anche da questa parte così e anche qua va cuscito ecco questa è la parte sotto l'ascella ok quindi adesso io vado a cucire questa parte ecco e poi ci ritroviamo iniziamo la lavorazione lavorando sempre a giro iniziando dal dal primo giro ok rieccomi allora a cucire le due maniche sotto le ascelle adesso posso riprendere la lavorazione allora inizio da qui dalla manica dove abbiamo le cinque maglie alte doppie lavoro con l'uncinetto del quattro e mezzo allora inizio qui dalla prima maglia alta doppia ok e faccio 1 2 3 4 catenelle vediamo se posso avvicinare quattro catenelle che sono la prima maglia alta doppia rientro e lavora ancora quattro maglie alte doppie quindi in tutto cinque 3 4 5 allora ho iniziato qui dalla manica quindi lavoro intorno alla manica fino a qui dove ho il marco punto quindi salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta doppia fino ad arrivare a nove ma gli altri coppia 5 5 3 4 5 6 7 8 qui sull'ultima maglia alta doppia lavoro 35 magli altri doppie 4 5 adesso vado nella maglia seguente qui e lavoro 5 ma gli altri doppie 1 2 3 4 5 ora vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta doppia e poi lavora ancora 8 ma gli altri doppie soltanto una maglia di classe 2 3 4 5 6 qui per cucito quindi uno pieno 9 e nell'ultima maglia lavoro le cinque maglie alte doppie qui vi faccio 2 3 4 5 così poi adesso vado qui nella parte del busto quindi ho lavorato la manica la manica e adesso vado qui qui abbiamo 5 maglie alte doppie quindi vado sulla prima questo lo tolgo da fastidio ecco lavorato le nuove maglie allora scusate faccia 2 4 6 8 devo lavorare non ha maglia e adesso qui faccio le cinque maglie alte doppie sull'ultima delle cinque maglie alte doppie e continuo a lavorare fino ad arrivare qui dove abbiamo l'altra manica quindi facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui comunque ve la faccio rivedere ok quindi vado avanti e arrivo qui eccomi sono arrivato al mio marca punti quindi ho lavorato le mie 9 maglie alte doppie adesso qui sull'ultima maglie sulla quinta maglie alte doppia lavoro le cinque maglie quindi vado qui al lavoro 1 questo lo posso togliere questo lo posso togliere questo lo posso togliere questo lo posso togliere 1 2 2 3 3 4 4 e 5 adesso vado qui questa è la manica e abbiamo qui cinque maglie alte doppie 1 2 3 4 qui vado qui qui è un po' stretto perché ho uscito e lavoro 5 maglie alte doppie 1 2 3 4 5 5 5 e adesso continuo quindi vado nella maglia seguente lavoro la maglia alta doppia quindi dicevo maglia alta nella maglia seguente adesso salto una maglia e continuo la lavorazione quindi continuo fino ad arrivare a 9 maglia alte doppie 2 5 6 6 7 8 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 e nell'ultima maglia proprio qui lavoro le 5 maglie 5 maglie alte doppie 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 2 3 4 5 2 3 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 4 e 5 e continua a lavorare il mio motivo fino alla fine del giro ok quindi adesso arrivo qui fino alla fine dopodiché faccio il mio giro a maglia bassa quindi adesso lavoro sempre a giro fino ad arrivare all'altezza delle falle quindi dobbiamo continuare sempre questo motivo ok man mano che andata avanti poi per stringere cambiato uncinetto io adesso sto lavorando con l'uncinetto del 4 e mezzo quindi faccio un po di giri e poi cambio uncinetto il lavoro con l'uncinetto del numero 4 comunque io adesso man mano che vado avanti poi vi dico ogni quanti giri ho cambiato l'uncinetto ok quindi ci ritroviamo quando arriviamo all'altezza delle spalle rieccomi allora io sono andata avanti sono arrivato all'altezza delle mie spalle ho lavorato nove motivi fino ad arrivare alla mia misura non ho avuto bisogno di cambiare uncinetto perché il punto stringe da sé quindi non c'è bisogno di non ho avuto io ho bisogno di cambiare uncinetto quindi sono andata avanti con l'uncinetto del 4 e mezzo adesso però dato che sono agli ultimi giri quindi facciamo adesso un'altra lavorazione per stringere un pochino il lavoro sulle spalle altrimenti poi cade allora prendo l'uncinetto del numero 4 ho fatto il mio motivo e ho fatto anche il giro delle maglie basse in rilievo adesso mi trovo qui sul diritto del lavoro e facciamo adesso questa lavorazione allora vediamo se riesco così ok allora noi qui siamo sulle cinque maglie alte doppie lavorate tutte nella stessa maglia quindi facciamo una catenella rientro nella stessa maglia lavoro una maglia bassa quindi lavoriamo sulle 5 maglie alte doppie 5 maglie basse quindi ho fatto la prima 2 3 4 5 adesso facciamo due volte filo sull'uncinetto vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta doppia però non chiusa quindi esco da due ed esco da 22 volte filo sull'uncinetto salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia non chiusa quindi sono due salto una maglia vado nella maglia seguente 3 2 volte filo sull'uncinetto salto ma una maglia vado nella maglia seguente 4 scusate facciamo un'altra cosa allora dato che stringe troppo facciamo 3 catenelle ok adesso vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta doppia non chiusa una salta una maglia maglia seguente maglia alta doppia non chiusa salto una maglia maglia seguente maglia alta doppia non chiusa quindi facciamo 3 4 5 e adesso chiudo tutte le maglie 1 2 3 catenelle e qui lavoro le mie cinque maglie alte doppie scusate le cinque maglie basse 1 2 3 4 5 quindi siamo sulle prime cinque maglie alte doppie poi vado nel secondo gruppo di cinque maglie alte doppie lavora ancora cinque maglie basse 1 2 3 4 5 così e poi ancora facciamo le 3 catenelle vado nella maglia seguente lavoro la maglia alta doppia non chiusa quindi 1 salto una maglia vado nella maglia seguente 2 salto una maglia maglia seguente 3 salto una maglia maglia seguente 4 salto una maglia 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 5 e chiudo tutte le mie maglie così 1 2 3 catenelle e qui lavoro le mie 10 maglie basse quindi vado sulla prima maglia quindi vado sulla prima maglia 1 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 1 2 3 catenelle e ricomincio quindi vado nella maglia seguente maglia alta doppia non chiusa quindi 1 2 salto 3 salto 4 salto 5 e chiudo 1 2 3 e continuo 10 maglie basse sulle 5 ma sulle 10 maglie alte doppie ok quindi vado avanti così fino alla fine del giro eccomi allora io ho finito il mio giro ho chiuso con una maglia bassissima nella prima maglia bassa se riesco ad avvicinare un attimo ok ok ora facciamo dei giri a maglia bassa e andiamo a diminuire una maglia ogni 6 maglie basse quindi io adesso faccio il mio primo giro e vado a diminuire una maglia ogni 6 maglie basse se ho ancora bisogno di diminuire delle maglie allora faccio ancora un altro giro maglia bassa insomma faccio tanti giri di maglie basse diminuendo una maglia ogni 6 maglie basse oppure ogni 8 maglie basse dipende anche dalla misura che dovete fare io voglio diciamo non voglio stringere molto ma non lo voglio neanche lasciare troppo largo quindi man mano che vado avanti a fare le mie maglie basse io lo provo quando diciamo raggiungo la misura la misura diciamo quella giusta allora poi mi fermo facendo le maglie basse fate anche un piccolo bordino perché lasciarlo così sinceramente a me non piace quindi se facciamo un bordino con delle maglie basse oppure se non vi piacciono le maglie basse potete fare delle mezze maglie alte ovviamente dovete diminuire una maglia ogni 6 8 maglie alte mezze maglie alte ok insomma scegliete voi il bordino che volete fare se volete fare la maglia alta la maglia bassa la mezza maglia alta l'importante che è andata a diminuire dei punti ok quindi io adesso vado avanti finisco il mio bordino e poi metto il mio lavoro sul manichino così vi faccio vedere come viene indossato ok bene io spero che ho spiegato bene tante volte mi dicono che sono troppo veloce e ripetitiva a volte mi dicono che non so spiegare completamente comunque questo per me è un hobby è un passatempo diciamo non lo faccio per lavoro non sono una professionista a me piace condividere i miei lavori soprattutto lo faccio anche gratis e quindi se sbaglio in qualcosa se non riesco a piegarmi bene io chiedo scusa e se proprio non mi sopportate allora non seguitemi ok bene per chi mi segue mando un abbraccio un bacio e al prossimo tutorial ciao ciao